Il santo del giorno è Santa Filippina Rosa du Chesne, coetanea di Napoleone, decide di dedicarsi all'assistenza degli ultimi. Nel 1818 arriva con quattro consorelli in Louisiana, dove è nata Britney Spears, dove il vescovo cerca aiuto per l'assistenza religiosa agli immigrati francesi. Rimasta invalida, si dedica poi all'evangelizzazione e all'istruzione di una popolazione indiana seminomade nel Kansas. Da lì fa ritorno nel Missouri, dove muore a 83 anni. Beatificata nel 1929, madre filippina è stata proclamata santa da Giovanni Paolo II nel 1988. L'ora in Ipsum, noi torniamo subito dopo e come sempre vi auguriamo buona televisione.